Il prossimo 4 e 5 maggio il Circolo dell'Antico Pistone di Caltanissetta celebrerà la venticinquesima edizione delle Ronde delle Zolfare, la manifestazione dedicata alle auto storiche. L'evento prenderà il via venerdì 3 maggio alle 18 e 30 nella sede del Circolo dell'Antico Pistone in via delle Calcare 17 con le verifiche tecniche e la distribuzione del roadbook per i soci locali. Il sabato mattina alle ore 9 in piazza Garibaldi a Caltanissetta i partecipanti si riuniranno alla Proloco per il briefing di benvenuto e le ulteriori verifiche tecniche seguite dalla consegna del roadbook. Subito dopo alle 10 prenderà il via la visita al Museo delle Vare seguita dalla partenza verso la Masseria del Feudo in Contrada Grotta Rossa per la prima sessione di prove e di abilità. Visita dei vigneti, delle cantine e un leggero pranzo seguita dalla seconda sessione di prove e di abilità. Nel pomeriggio alle 15 e 30 è prevista la partenza per il Museo archeologico Pietro Grifo di Agrigento seguita dalla visita del Museo. La giornata si concluderà con la partenza verso un hotel agrigentino per la cena e il pernottamento. La domenica mattina alle ore 9 e 30 i partecipanti si dirigeranno verso la Casa Museo Luigi Pirandello in Contrada Caos e daranno inizio alla terza sessione di prove e di abilità. Durante la visita della Casa Museo verrà donato il ritratto di Luigi Pirandello, del maestro Mario Giuseppe Bettinelli in collaborazione con la Raci 2110 e l'Automoto Club del Minotauro di Taormina. Alle 12 e 30 i partecipanti si dirigeranno verso un hotel agrigentino per il pranzo e la cerimonia di premiazione. La partecipazione è limitata ad un massimo di 25 equipaggi e sono ammesse solo le vetture che soddisfano i requisiti specificati nel regolamento di gara e che hanno inviato la scheda di iscrizione insieme al relativo contributo di partecipazione entro le ore 24 del 30 aprile 2024 all'indirizzo email circoloanticopistone-virgilio.it o nel gruppo Whatsapp dedicato.